La superficie terrestre è coperta d'acqua per il 71% di cui il 97% è salata, mentre il rimanente 3% è acqua dolce proveniente da ghiacciai e nevi perenni, falde sotterranei e acque superficiali, ma solo l'1% di questa risorsa è acqua accessibile per uso umano. Bene di prima e assoluta necessità, oggi l'acqua non può più essere considerata una risorsa infinita e scontata, poiché messa quotidianamente sotto attacco da scelte politiche, economiche e tecnologiche scellerate che spesso vanno a braccetto con inquinamento e cambiamento climatico, in un quadro in cui il fragile equilibrio tra sfruttamento e tutela del cosiddetto oro blu mette a rischio la risorsa stessa. Per scuotere le coscienze e invitare la cittadinanza a mobilitarsi in difesa delle risorse idriche del territorio, nella sala conferenza del comune di Bussi sul Tirino è stato organizzato il convegno Le Acque del Tirino, un ragionevole e ragionato equilibrio tra tutela e opportunità, voluto dal gruppo consigliare Rianimiamo Bussi con il capogruppo Carmine Di Carlo. Quest'anno, mai come prima, c'è veramente un assalto alle nostre fonti di acqua, sia per quanto riguarda le acque superficiali, sia per quanto riguarda le acque di falda. La falda del Gran Sasso è una delle ultime falde grosse rimaste, che però comincia ad avere cenni di sofferenza. Oltretutto qui adesso c'è un problema di sfruttamento delle acque superficiali, perché in risposta a delle mozioni della Comunità Europea sono state rimesse a gara le concessioni per uso idroelettrico e industriale delle acque superficiali del Tirino. Questa situazione potrebbe mettere a rischio anche la produzione di energia elettrica, l'autoproduzione della società chimica Bussi, che autoproduce utilizzando le acque reflue del Tirino e quindi dà lavoro. Se queste concessioni dovessero essere perse per qualche motivo, rischieremo anche un grosso problema di lavoro. Quindi noi chiederemo al Consiglio regionale di approvare degli emendamenti per poter tutelare gli autoproduttori ed evitare che, oltre ad essere sfruttati su tutti i tipi di acque, andiamo anche a perdere posti di lavoro. Il pericoloso e irreversibile assalto all'oro blu della Valle del Tirino sta mettendo a rischio la sopravvivenza della biodiversità dell'ecosistema, con la riduzione di portata delle acque del Tirino e delle stesse attività produttive della zona. Al di là della crisi idrica in corso, che rappresenta la vera emergenza mondiale con proiezioni nefaste sul futuro dell'umanità, resta il grande problema risolto ormai da decenni della dispersione idrica che si attesta ben oltre il 60% della portata degli acquedotti dell'Aca e che inspiegabilmente e irragionevolmente le istituzioni continuano a non risolvere. Oltre al problema proprio dell'acqua potabile, che va assolutamente tutelata e soprattutto non sprecata, perché non si può continuare a avere delle perdite superiori al 60%, che è almeno il 20% di più rispetto alle medie nazionali, c'è anche questo studio di fattibilità che era stato commissionato dall'Acquedotto Pugliese all'Università di Bari e all'Annunzio per poter valutare un prelievo di acqua e di falda con dei valori assolutamente inaccettabili, perché si parla dai 4 ai 6 metri cubi secondo, quindi parliamo 4-6 mila litri secondo. Noi abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti perché vogliamo sapere se erano state fatte delle comunicazioni e delle richieste al Comune di Bussi, per le quali stiamo ancora attendendo risposta, ma questa quantità di prelievo sarebbe assolutamente disastrosa per la falda, perché si andrebbe a chiedere di andare a captare l'equivalente della portata attuale del fiume Tirino per portarlo in Puglia, quindi la falda andrebbe in default in poco tempo.